Cosa è successo mercoledì notte? Per rispondere a questa domanda sono in corso nella sede della Capitaneria di Porto di Bari gli interrogatori degli 11 membri dell'equipaggio del motopontone AD3 che hanno assistito all'inavvissamento del rimorchiatore Franco P nelle acque dell'Adriatico a 50 miglia dalla costa del capoluogo. Il mezzo è arrivato sulla banchina 30 del Molo San Cataldo intorno alle 10, dopodiché gli 11 sono stati interrogati dagli uomini della Guardia Costiera proprio per ricostruire cosa è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Al momento il bilancio della tragedia del Franco P conta tre persone morte, i due anconitani Luciano Bigoni e Andrea Massimo Loi di 65 e 58 anni e il tunisino Gelali Ahmed di 63 anni e due ancora disperse, probabilmente i due molfettesi Mauro Mongelli e Sergio Buffo di 59 e 60 anni. Tratto in salvo invece da un mercantile croato il comandante catanese Giuseppe Petralia al momento all'ospedale di Venere di Bari. L'uomo non sarebbe stato ancora ascoltato dagli inquirenti. Mercoledì sera il motopontone è partito da Ancona direzione tirana trainato dal rimorchiatore Franco P. A 50 miglia da Bari la D3 lancia un SOS alla Capitaneria di Porto di Bari per problemi al rimorchiatore. Dopo pochi minuti un secondo contatto in cui si sarebbe descritto l'inabissamento del mezzo. Il resto è il mistero che gli inquirenti della Capitaneria, coordinati dal procuratore Roberto Rossi e dal sostituto di Vittorio, cercheranno di ricostruire.